c'è un'oscura leggenda su minecraft si riferisce a questa scala che praticamente arriva fino ad una certa e si ferma praticamente si dice che questa scala potrebbe renderti per un qualche motivo triste nella vita reale vediamo ovviamente se mi renderà triste a me allora devo dire che effettivamente qualcosa io lo sento ok un pochino triste mi sento oh mio dio no no mi ricorda i tempi andati non so come dire però un altro triste segreto è che se vedete quella cassa lì in fondo beh lì tecnicamente ci dovrebbero essere dei maialini ed effettivamente si sentono già da qua e praticamente questa cosa ti sta dando un sacco di rabbia almeno a me da un sacco di rabbia ma a chiunque incontri questa cassa e praticamente ci sono un sacco di strumenti di tortura per uccidere questi maialini e cerchi di inventartele di ogni e questa cosa è veramente soddisfacente quando succede oh mio dio però ora ti senti super triste no scusate ma questo video è veramente inquietante però cioè non è solo triste è proprio inquietante tutto ciò questo ascensore è indice di una cosa molto inquietante ovvero di quella poltrona lì che tristemente ti porta a sederti di lei e ricordare per l'eternità i momenti più brutti che hai vissuto non so perché ma questo video è veramente inquietante vorrei smettere di farlo infatti sono veramente non lo so è strano tutto ciò comunque non 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 sedeteci mai anzi cerchiamo di bruciarlo questa cosa e cerchiamo di diventare un attimo più felici invece adesso è diventato tutto quanto un po più bello perché ho smesso di cercare quei segreti brutti magari penso ad altro magari che ne dice se pensiamo tipo alle cose che ci fanno stare bene tipo che cosa ne so tipo questa lo so che vi fa ridere questa cosa ok forse non fa non faceva ridere la triste ma proprio perché era triste fa ancora più ridere perché o no è il fatto che mi stia crashando minecraft è divertente un pochino olle abbiamo anche i razzetti che bello ora possiamo volare dappertutto olle è divertente però questo è comunque cerchiamo le cose un po più felici nel mondo ci sono anche cose tristi però è anche giusto cercare le cose più felici quando si può chiaramente ci sono un pochino